Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10, pagina politica in apertura del telegiornale. Ci occupiamo del referendum anche a Gela così come è accaduto in tutta Italia, ha vinto il no che ha ottenuto il 72,1% dei riscontri mentre il sì si è fermato al 27,9%, un divario nettissimo. In città votate il 47% degli eventi diritto, le operazioni di voto in un seggio elettorale del villaggio Aldisio sono state bloccate per circa due ore per le proteste di una elettrice secondo la quale la matita fornita dalla prefettura non era copiativa cioè dal segno indelebile ma perfettamente cancellabile dunque con il rischio di possibili brogli. Vediamo. Il dato di Gela è eloquente, il no ha ottenuto il 72,1% dei riscontri mentre il sì si è fermato al 27,9%, un divario nettissimo così come è accaduto in tutta Italia. Dei 59.592 elettori chiamate alle urne hanno votato in 20.266 cioè dire il 47,3%, 12.409 hanno votato no, 7.857 sì. I giolesi hanno bocciato la riforma costituzionale voluta dal governo Renzi che ha subito un colpo durissimo e soprattutto il Partito Democratico, una vera e propria ammazzata. Avere sostenuto il premier Matteo Renzi ritenuto dai giolesi tra gli artefici della chiusura dello stabilimento Eni ha pesato tantissimo. Esultano di contro il centrodestra e i grillini e la vittoria del no ha portato ieri sera il presidente del Consiglio dei Ministri a rassegnare le proprie dimissioni. Mi assumo tutta la responsabilità della sconfitta, volevo ridurre il numero delle poltrone, la poltrona che salta è la mia, ha detto durante la conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi intorno a mezzanotte. Il premier ha fatto quello che aveva annunciato all'inizio della campagna elettorale in caso di vittoria del no. Oggi convocherà il Consiglio dei Ministri, salirà al Quirinale e consegnerà le dimissioni nelle mani del presidente Mattarella. Tornando a Gela, ieri le operazioni di voto sono state bloccate per circa due ore in un seggio elettorale nel rione Villaggio Aldisio per le proteste di una elettrice, secondo la quale la matita fornita dalla prefettura non era copiativa, cioè dal segno indelebile, ma perfettamente cancellabile e dunque con lo rischio di possibili brogli. La prova della facile cancellazione l'avrebbe fatta le stesse in cabina, perciò ha chiesto una dimostrazione ufficiale irripetibile da acquisire gli atti davanti alle forze di polizia, riservandosi la ricorso alla magistratura. Il presidente del seggio e l'ufficio elettorale hanno preso verbale le dichiarazioni dell'elettrice e hanno fatto riprendere le operazioni di voto respingendone la richiesta. Le matite, provate dai dipendenti comunali su carta normale, sarebbero risultate perfettamente a norma. Sui risultati del referendum ascoltiamo il capogruppo consigliare di Forza Italia, Salvatore Scerra. Vediamo. Non vorrei fare un'analisi politica perché la gente ha capito, la gente ha difeso la Costituzione, la gente è stata sovrana, ha scelto la democrazia alla violenza della democrazia. E quindi il referendum è stato bocciato all'unanimità degli italiani, perché diciamo che il dato confortante e scandaloso per quanto riguarda il PD è che il 72% ha votato per il no. Quindi ha difeso la Costituzione, ha difeso i diritti, ha difeso il popolo, ha difeso la Repubblica italiana. Chi ha preso una mazzata altrimenti è proprio il PD. Ma io credo che questo sia stato un errore del leader del PD che ha personalizzato questo referendum e questo è stato un errore. Questo era un referendum costituzionale, era un referendum per gli italiani e per l'Italia. Lui l'ha trasformato in un referendum politico, non si risolve così la crisi politica, sicuramente facendo un cambiamento della Costituzione. Quindi gli italiani l'hanno bloccato, gli italiani lo rimandano a casa e sicuramente gli italiani hanno voglia di andare a votare e di scegliere il proprio leader che li guida per i prossimi anni. A livello locale cosa cambia? Diciamo che a livello locale abbiamo la consapevolezza che il centro-destra unito arriva a numeri importanti. Abbiamo la consapevolezza che l'affluenza alle urne è alta e abbiamo la consapevolezza che si può cambiare e si deve cambiare. Ma sicuramente dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare soprattutto nelle idee di proporre a questa città uno sviluppo importante per rialzarci da questa crisi che ci attanaglia da tantissimi anni. Oltre a voi esultano anche i grellini. Assolutamente, diciamo che i partiti hanno fatto la propria parte. Noi abbiamo messo il nostro simbolo, noi di Forza Italia abbiamo lavorato per difendere la Costituzione, come l'hanno fatto il Partito Liberale, il Comitato per il No e quindi il Movimento 5 Stelle. Ma questa è una vittoria non dei partiti ma è una vittoria del popolo e degli italiani e soprattutto dei gelesi che hanno bocciato il Partito Democratico e Renzi. Al di là del risultato, la soddisfazione più grande è stata la consapevolezza di aver arricchito di contenuti un confronto fondato inizialmente su uno scambio di slogan preconfezionati. Prendiamo atto dell'esito ben al di sopra della media nazionale e ci auguriamo che l'atto di responsabilità di Matteo Renzi sia da monito per i suoi sostenitori. E' quanto si legge in una nota di destra in Movimento, il popolo italiano e i gelesi hanno dimostrato di voler decidere il proprio futuro. La partecipazione è andata in netto contrasto con la riforma che invece voleva ridurre la sovranità popolare. Ai gelesi continua la nota, va il nostro ringraziamento per avere creduto nelle ragioni del no ampiamente discusse e manifestate da destra in Movimento. In queste settimane di conseguenza per avere bocciato chi ha materialmente ucciso l'economia della città con la complicità dei suoi sostenitori, raggirandoci con false promesse che offendono la nostra intelligenza. E il segretario cittadino del Partito Democratico, Peppe Di Cristina, accetta la sconfitta. Sentiamo. Segretario, i numeri parlano da soli. 12.409 a Gela hanno votato no, 7.857 sì. Quindi avere sostenuto Matteo Renzi in una città che ha perduto lo stabilimento e Matteo Renzi, il premier, è stato definito l'altevice della chiusura non è stato assolutamente facile. Io sgancio il mio ragionamento rispetto a una vicenda semplice. In tanto, io devo ringraziare tutto il gruppo dirigente che da maggio ha iniziato questa straordinaria campagna elettorale, che non era una campagna elettorale a favore o contro Renzi. Purtroppo noi non siamo, secondo me, riusciti totalmente, non solo a Gela, ma a tutti i livelli, a sganciarci da questa cosa. Ma era una campagna, dal nostro punto di vista, per mettere in campo una grande visione di cambiamento e di innovazione del Paese. Chiaramente noi ci siamo spesi perché rispetto a quest'idea di cambiamento ci credevamo e ci crediamo. E rispettiamo l'elettorato che invece non ha voluto dire no. Ma è una vera e propria mazzata per il Partito Democratico? E' certamente un risultato negativo che ridimensiona profondamente il Partito Democratico sul piano dei numeri, su questo non ci sono dubbi. Contemporaneamente però voglio ricordare che il dato nazionale ci parla di un 40%, che mentre dall'altra parte, diciamo, socialmente solo dell'area democratica, mentre dall'altra parte mi sembra che ci siano tra movimenti, sigle sindacali, associazioni, una ventina di sigle. Quindi, insomma, lì bisogna capire cosa succede. Però guarda, io non voglio buttarla adesso nella polemica. Ripeto, noi abbiamo fatto una grande battaglia di cambiamento. Abbiamo perso, ne prendiamo atto e cerchiamo di ripartire rispetto a quel dato. Però anche all'interno del PD, mi riferisco a livello nazionale, c'erano due anime. C'era chi diceva sì, c'era chi diceva no. Sì, purtroppo un pezzo del partito non ha condiviso il percorso. Io vengo dalla sinistra del mio partito, da quella storia, e ritengo che questa idea di cambiamento meritasse sostegno. Perché era un'idea, ed è un'idea utile al Paese, che avrebbe semplificato profondamente, diciamo, la struttura del Paese. Detto questo, è andata così, bisogna ricostruire dal dato, che comunque, ripeto, nazionalmente è un dato del 40%. E chi pensava che la città di Gela sarebbe sganciata rispetto al dato regionale, non è stato così. Visto che Gela è pienamente nella media regionale, che purtroppo è una media negativa, e non è una scusante, ma è un dato di fatto, molte città di proporzioni grandi hanno anche fatto peggio di Gela. Questo dimostra che il trend, alla fine, è stato un trend politico nazionale, e che alcune vicende localistiche, diciamo, non sono completamente centrate all'interno della discussione. Ripeto, il Partito Democratico riparte da questo dato, con grande umiltà, e rispettando le elettrici e gli elettori che hanno scelto di non sostenere questa riforma. Il gruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana sostiene che il risultato del referendum nell'isola non è soltanto la bocciatura del governo Renzi, ma soprattutto del suo maggiore sponsor nell'isola, il governo del Partito Democratico e di Rosario Crocetta. Adesso dimissioni e parole ai cittadini, c'è da rimettere una Sicilia al lavoro, e non può farlo chi ha perso in maniera così sonora. Grazie di cuore a tutti i cittadini siciliani che hanno dichiarato con questo voto la voglia di cambiare la nostra terra, conclude la nota. Il tavolo, aree verdi, spazi urbani e mobilità attiva all'interno del progetto Cantiere Gela denuncia l'inerzia delle amministrazioni comunali, giunte e consiglio, con riferimento alle iniziative proposte nei mesi scorsi a favore della città. In particolare, i componenti lamentano che a distanza di diversi mesi né il Consiglio Comunale ha provveduto a calendarizzare l'avvio dei lavori per lo studio e approvazione del regolamento per la cogestione delle aree verdi della città, né la Giunta Municipale si è attivata per predisporre l'assegnazione delle aree del Giardino Demetra, oggetto di un progetto di adozione sperimentale da parte dei residenti della zona. Questa inerzia, lamentano i componenti, oltre che provocare un danno economico ed immagine per Gela, determina una grave frustrazione delle aspettative e della volontà dei numerosi cittadini che hanno fornito nei mesi scorsi la propria disponibilità per adottare le aree interessate. Continuano a Gela l'iniziativa per i festeggiamenti per l'Immacolata Concezione, previsti per l'8 dicembre oggi alle 19.30, celebrazione della parola e liturgia penitenziale con la partecipazione dei portatori dell'Immacolata e benedizione e consegna dell'abito. La manifestazione si svolge nella Chiesa San Francesco d'Assisi, retta da Don Giorgio Cilindrello. Acqua pubblica, un sogno svanito, ad affermarlo il Comitato Beni Comuni ed Acqua pubblica dei Comitati di quartiere del Tavolo Tecnico dell'Acqua del Polo Civico, Cives 3.0, che nei giorni scorsi, in una nota congiunta inviata alla stampa, hanno denunciato il continuamento delle tariffe del servizio idrico a Caltanissette e della quota fissa a contatore, nonché la latitanza delle istituzioni in merito ai problemi dell'acqua pubblica e il sistema integrato, a partire dalla Presidenza della Regione e degli assessorati competenti in materia e l'assenza del ruolo degli ati idrici di vigilanza e di controllo nei confronti dei gestori. Le tariffe del servizio idrico a Caltanissette, infatti, in questi anni hanno subito continui aumenti. Stessa situazione per il canone a contatore, ovvero la quota fissa. Quest'ultimo introdotto nel 2008, ammontante a 60 euro, sino al 2012, e oggi pari a 89,28 euro, un aumento di quasi il 50% in soli tre anni, escluso IVA. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Giovanni Ruvolo, che a tutela dei consumatori intende chiedere un incontro urgente col lato idrico. Col tavolo tecnico permanente abbiamo un dialogo continuo che serve a condividere il monitoraggio sulle quote tariffarie e sulla qualità del servizio di erogazione dell'acqua. Circa un anno fa, col lato idrico, avevamo concordato che qualunque tipo di aumento tariffario doveva essere condiviso dall'amministrazione comunale e soprattutto non doveva essere variata la quota fissa. Sulla base di questo adesso chiederemo un altro incontro col lato idrico anche per verificare tutti gli aspetti che avevamo definito più di un anno fa. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, in particolare con Sicilacqua, intendiamo verificare l'impegno preso qualche mese fa, anche questa su sollecitazione del tavolo tecnico relativo agli interventi di pianificazione per la manutenzione degli acquedotti, questo per limitare al massimo la perdita di acqua durante il trasferimento nella città di Caltanissetta, ma soprattutto per evitare le interruzioni che purtroppo stanno capitando troppo frequentemente, creando disagi reali alla popolazione. Questa è un'azione che questa amministrazione intende portare avanti anche perché il costo dell'acqua è significativo e quindi i cittadini devono avere un servizio di qualità. Tra l'altro insieme a Caltacqua abbiamo pianificato l'intervento sulla Stata Foglia che è l'ultimo intervento per completare il nuovo anello di distribuzione idrica, quindi il sistema di distribuzione del centro storico. E completato questo sarà possibile erogare l'acqua H24 per tutto il centro storico. È attivo in città lo sportello medico per i più bisognosi, aperto nei giorni di lunedì e venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa porta la firma del Movimento Rosa per la rinascita di Gela. Collaborano ginecologi, rianimatori, anestesisti, pediatri, neurologi e odontoiatri. Per informazioni bisognerà rivolgersi al numero 346 9349 271 oppure presso la sede di via Tucidide al numero 19. Paola Lab in collaborazione con il Museo archeologico regionale di Gela promuove per sabato 10 dicembre dalle 16 alle 18 il primo appuntamento di un ciclo di laboratori didattici per bambini e ragazzi all'interno del museo. 18 appuntamenti, due al mese, durante i quali i partecipanti si confronteranno con Paola Rinciani, laureata in storia dell'arte e sostenitrice del pensiero e del metodo di Bruno Munari, secondo cui un bambino creativo è un bambino felice. E con diversi professionisti gelesi, Roberto Collodoro, Francesco Trainito, Fabio Caffà, Emanuele Cidonelli, Maria Carla Aldisio, Filippo Franzone, Vincenzo Castellana. Punto di partenza di ogni incontro sarà una tematica presente all'interno della prestigiosa collezione museale e sette appuntamenti saranno dedicati ad una disciplina specifica a riciclo, grafica, fotografia, cinema, teatro, arte del legno e architettura. Per consentire ai giovani l'ha scoperto l'approfondimento delle proprie attitudini, di un modo autonomo di pensare, di ambiti creativi nuovi, utile alla formazione, ad un eventuale percorso professionale. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10, questa sera alle ore 21. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Le repliche sono previste alla mezzanotte, domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e nonna, cassette audio e video, floppy disk, cd, tvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozzicone di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Ben tornati in studio per la nostra seconda parte del telegiornale. Giovedì 8 dicembre alle ore 10 in occasione del sesto centenario della nascita di Francesco di Paola con una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina. Monsignor Rosario Gisana verrà riaperta al culto la chiesa di San Francesco di Paola detta Dosantu Pati su Corso Vittorio Emanuele, Piazza Sant'Agostino. È prevista per giovedì 15 dicembre alle 17 nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela diretto da Gioacchino Pellitteri la presentazione del libro Librio Sibia Bere di Federico Efer. L'iniziativa è dell'Uni3 presieduta da Angela Scaglione, introdurrà i lavori Liborio Mingoya, docente e responsabile culturale Uni3. Adesso parliamo di sport, c'è il calcio, pareggio per 0-0 tra Gela e San Cataldese. Ieri al Vincenzo Presti per i Biancazzurri non è arrivata la quinta vittoria di seguito. Ciò nonostante i gelesi approdano al secondo posto raggiungendo la Cavese sconfitta a Roccella. Pareggio a reti inviolate tra Gela e San Cataldese nel teso derby della quattordicesima giornata di Serie D. Un punto che accontenta maggiormente la squadra ospite ma tutto sommato anche i padroni di casa che alla fine acciuffano ugualmente il secondo posto in classifica in condominio con la Cavese sconfitta malamente dal Roccella. 0-0 alla fine dei 90 e più minuti di gioco anche se il Gela avrebbe meritato qualcosa in più se non si fosse trovato di fronte un super dolenti. Per l'estremo difensore Verde Malanto una giornata davvero protagonista grazie ai suoi prodigiosi interventi sugli attacchi di un Gela che ha provato sino alla fine a vincere la partita ed acciuffare il suo quinto sigillo di fila. Un derby non bellissimo soprattutto nella prima versione di gioco, un po' meglio nella ripresa quando i padroni di casa hanno provato a mettere giù il pedale sull'acceleratore sfiorando a più riprese il gol. Match che si è subito aperto con il Gela che ci prova dopo 4 minuti con Bruno ma la sua conclusione è alta sulla traversa. Alla settimo Bonanno tenta la botta dalla distanza ma il suo tiro è debole. Dopo un minuto combinazione Bonanno-Montalbano con quest'ultimo che tenta il gol dell'ex Madolenti dice di no. Alla diciassettesimo il capitano Bonaffini accusa una fitta al flessore ed è costretto ad abbassare il suo raggio di azione stringendo i denti sino alla fine del primo tempo quando verrà sostituito da Brugaletta. Al venticinquesimo occasione per gli ospiti con Carioto che si beve un paio di giocatori biancazzurri ma la sua conclusione è debole. Al ventisettesimo Kidichimo per il Gela prova a sbloccare il risultato ma il sottito dalla distanza è deviato in angolo da Dolenti. La Sangataldese si difende con ordine e con i denti e lascia pochi spazi agli avversari. Il Gela è costretto così a provarci dalla lunga distanza come Campanaro al trentesimo tenta il Lassiruro da distanza siderale che termina fuori. Quasi allo scadere del primo tempo ancora un'occasione per gli ospiti con Bello che di forza si incunia in aria e prova la botta con Saitta determinante. Nella ripresa come detto fuori Bonaffini con Evola che torna nel suo ruolo naturale di centrocampista. Infantino mette dentro anche Kosovan al posto di Nassi e la manovra gelese si fa più pericolosa. Al decimo Bonanno ha sui piedi la palla dell'1-0 un rigore in movimento che il giovane attaccante valedimitano spreca calciando forse troppo debolmente con Dolenti che interviene in tuffo. Occasione sprecata è Gela che si morde le mani. Poco dopo Kosovan tenta senza successo la deviazione aerea. Al sedicesimo Montalbano trova ancora Dolenti sulla sua strada. Alla trentottesimo un'altra occasione d'oro per i padroni di casa con Campanaro che prova la conclusione di testa ma Dolenti si oppone con tutto il corpo. E un assalto alla porta della San Cataldese con Gambuzza che al quarantasettesimo chiude la gara con una girata di testa che termina alta sulla traversa. Così dopo cinque minuti di recupero l'arbitro Michele Cinque di Pistoia decreta la fine delle osterità tra le due squadre e la fine di un derby tutt'altro che spettacolare ma corretto e con tanto spettacolo soprattutto sugli spalti. E a fine partita Flavio Centamore ha raccolto la testimonianza dei due allenatori. Vediamo. Loro sono partiti, avevano un passo molto più aggressivo, molto più veloce. Sicuramente anche loro hanno fatto una buona partita però noi dovevamo un po' all'inizio abbiamo perso un po' di misure eravamo molto lunghi abbiamo lasciato un po' il difficile dei contropiedi pericolosi però poi la squadra si è accorciata e noi non siamo una squadra che può giocare palla lunga su un assi ci perdiamo tanto ci allunghiamo tanto e questa squadra perde le misure e va in difficoltà al secondo tempo abbiamo fatto molto più possesso abbiamo giocato molto con palla a terra non abbiamo dato i punti di riferimento e sicuramente ha giovato nel gioco credo che siamo contenti della prestazione anche se non è stata molto continua però questi ragazzi non si può dire mai che non si sono impegnati o non hanno veramente anche oggi noi avevamo senza avevamo delle difficoltà fisiche anche prima della partita però non nascondiamo queste cose ne nascondiamo perché credo che non vogliono dare vantaggi agli avversari però avevamo due o tre giocatori che venivano da un affaticamento perché il campo di di Cava aveva dato questo affaticamento ai flessori però hanno dimostrato questo attaccamento a questa società a questi colori a questa città volendo fare una prestazione volendo partecipare a una prestazione che era importante sentita e dispiace per non aver dato un'altra vittoria a questa squadra però noi continuiamo su questa su questa striscia positiva siamo contenti vedete i risultati questo campionato e diventerà sempre più difficile non ci saranno più campi facili due squadre che si sono affrontate a viso aperto con molte ripartenze da una parte all'altra dove tutte e due le squadre potevano fare gol noi abbiamo avuto tre o quattro situazioni in cui potevamo sicuramente concludere meglio secondo tempo è subvenuta la fatica di contro c'è sempre una signora squadra come il Gela è normale si è abbastato il ritmo ci siamo messi un pochettino più indietro però abbiamo controllato bene se non nell'ultima situazione in cui ha fatto la parata il portiere e sappiamo che venire qua è sempre difficile però per noi era importante venire a fare un risultato positivo per cercare di guadagnare più punti possibili in questa lotta salvezza ma se dovessimo dire Dolendi migliori in campo io non sono d'accordo perché alla fine miracolo se ce n'è uno miracolo ce n'è uno conclusioni proprio nitide sullo specchio della porta tu per tu col portiere non ho viste forse quella più clamorosa è stata quella del primo tempo noi con Bello che non si è capito in mischia com'è finita però Dolendi fa parte della sanaldese e quindi ben venga se fa una prestazione del genere nel campionato di eccellenza pareggio invece per il Terranova Gela contro la Prof Avara il risultato è stato di uno a uno i giallorossi hanno colpito anche due pali intanto nelle prossime ore il tecnico Totò Bruculeri dovrebbe apporre la firma sul contratto che lo legherà alla squadra gelese ieri in panchina a guidare i ragazzi c'era il direttore sportivo Marco Cammarata c'è l'informazione cinematografica appuntamento al cinema all'antidoto di Gela con il film Ti amo presidente sono due gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 19.30 e 21.30 sempre all'antidoto mercoledì 7 dicembre alle 21.30 è previsto lo spettacolo Fiato di madre di Sergio Vespertino il biglietto costerà 8 euro per informazioni ci sono dei numeri di telefono 0 933 82 27 07 oppure 338 7143 293 con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui arrivederci alle prossime edizioni buon inizio settimana a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti